Lo sportello del cittadino si trova nella città vecchia di Taranto, nel borgo antico, precisamente sul lungomare di via Garibaldi. Un paesaggio, un affaccio al mare meraviglioso, ma purtroppo una situazione di degrado, di abbandono, di sporcizia davvero incredibile. Un qualcosa che è orrendo, vuoi per chi ci abita, per chi ci vive, per gli anziani che cercano un po' di prendere una boccata d'aria, soprattutto con la stagione estiva, e si ritrovano in una situazione di assoluto degrado. Ma anche e soprattutto per i turisti, perché è assurdo che arrivino le navi da crociera a Taranto e poi si imbattano in un paesaggio a dir poco degradato. E allora, proprio come recita il titolo, lo sportello del cittadino, noi vogliamo sentire la viva voce di chi vive, di chi soffre questa realtà. Perché non dimentichiamocelo mai, il cittadino è quello che paga le tasse profumatamente, è come arrivano a casa gli avvisi di pagamento. Il cittadino è la persona a cui si va a chiedere il voto e quindi quando arrivano le elezioni i loro signori diventano dolci e teneri pur di accaparrare il consenso popolare. E allora è giusto far sì che per una volta siano proprio loro i protagonisti. E non ci interessa se l'intervista non è in perfetto italiano, se ci sono delle affermazioni dialettali. Anzi, siamo orgogliosi della nostra tarantinità. Siamo orgogliosi di dare voce a gente che si rimbocca le maniche e che lotta per i propri diritti, per una città decente, per un affaccio al mare decente, per un po' di pulizia, nulla di più. E allora, cosa ha da dirci lei? Come vive questa situazione? E come bisogna? Basta guardare e uno si rende conto di come è la situazione. Sentiamo un altro cittadino, la vedevo molto arrabbiato proprio. Vedi che a tarda ne chiamo, ma a tarda eravamo a tutte le parti. E vedete questo, dici che devono fare questo. Quest'altro singolo che è cantato adesso non si vede mai come la città. E quando uno deve dire una cosa, come si fa? Come si deve fare? Ma fai domani come me stai? Vogliono il turismo a Taranto, no? Non mettono in un gabinetto. Questo è il nostro biglietto da visita per i turisti. Quindi quando vengono a Taranto vengono nella mondezza. Non c'è un servizio. Non c'è un servizio. Non c'è un servizio. Non può dire, non c'è un servizio. Nella merda. Guardate là. Tutto rinato, cacchate per la faccia l'ora. C'è un servizio. C'è un servizio qua. Non schifo. Molta sporcizia. Assai, assai sporcizia. Non si può stare. Io abito qua. Non si può stare vicino al mare. Non si può stare. Non c'è un gabinetto pubblico. Non c'è niente. Niente, niente. Niente. Basta se vanno a levare l'ora. Sono a sette su la poltrona. Arrivederci e grazie. E il cittadino baga le tasse. E come si dice a tarda, ci ha avuto avuto e ci ha dato a dare. Abbiamo voluto dare voce al cittadino, anche con un tono così folcloristico, ma è la voce, la disperazione di chi vede una città che ama, in cui è nato, in cui è vissuto, in cui vede crescere i propri figli e i propri nipoti, vede una situazione di degrado. E soprattutto l'appello al sindaco, sindaco Melucci, lei deve girare per la città. Lei non deve rimanere barricato nella Turrisseburnia, nella Torre d'Avorio. Deve girare, camminare a piedi, le fa bene anche per perdere qualche chilo. Così incontra i cittadini e vede lo schifo che è qui, in città vecchia, presso il lungomare Garibaldi. Grazie a tutti.